Purtroppo la Pasqua si prospetta come quella dell'anno scorso e quindi gli eventi pasquali sono tutti annullati a seguito dei provvedimenti nazionali e anche durante la Pasqua perderemo circa 15.000 presenze nella nostra città e quindi un grosso danno non solo per gli alberghi ma per tutto l'indotto. Per cui diciamo che noi alberghi della Riviera o della provincia tra Pasqua e Natale e i mancati eventi anche sul Carnevale perderemo sulle 50-60.000 presenze. Il problema dei ristori è molto talenante perché nel giro di quattro giorni si sono praticamente prospettati da parte del governo più soluzioni. Una prima soluzione prevedeva comunque un ristoro sulle perdite avute tra il 2020 e il 2019 nell'arco dei 12 mesi. Il disegno di legge apparso sulla stampa prevedeva solo il ristoro per gennaio e febbraio. Ora sta circolando un'altra notizia che ritorna sulla media mensile tra il 2020 e il 2019. E' chiaro che non si può pensare solo ai ristori per gli alberghi di montagna ma bisogna pensare anche alle città di provincia e alla riviera adriatica dove comunque noi abbiamo avuto un grosso danno. Ho appena detto che praticamente solo tra Pasqua e Capodanno abbiamo perso circa 50.000 presenze. La stagione non sta per iniziare e quindi molto probabilmente ci ritroveremo nelle condizioni dell'anno scorso. Le bollette arrivano, i tributi locali arrivano, quindi noi abbiamo assolutamente bisogno di ristori. La prossima settimana se la situazione sarà questa tornano a chiudere altri alberghi annuali. Quindi noi come settore alberghiere ci troviamo veramente in difficoltà. Per cui di noi non si parla mai perché non abbiamo il codice Ateco chiuso ma il mercato ci impone di chiudere perché non abbiamo clientela. L'altro problema grosso è che questa situazione ha bloccato anche le prenotazioni estive. Per cui in questo momento non possiamo nemmeno contare sulle caparre per le prenotazioni estive. Quindi c'è molto timore da parte della clientela, da parte degli italiani stessi, per cui il problema della liquidità diventa ancora più pesante.